Sono sul passo della Cardetta, ponte di 2400 metri Ecco che arriviamo in lontananza primo piano sulla Bocca Lamea anche lì siamo oltre 2800 metri ce l'abbiamo fatta il panorama è magnifico davanti a noi davanti a me adesso si aprirà uno favoloso pianoro pianoro della Cardetta anche qui sono state erette più da secondo conflitto mondiale diverse caserme per presidiare la zona ce l'ho fatta un saluto a tutti i miei amici e ai miei fans questo qua su è il monte Cassorso 2720 metri circa quello del Freight laggiù da dove si arriva la ponte Marmara questo altrettutto è un bel percorso da fare con la mountain bike anche queste piste militari sono un po' di grande questo bellissimo spot con la meia questa a parete nord e questo è il monte Romano il monte Romano 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 è il monte Romano Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La Paserona è adattata ai film, il colpo alpino italiano Il colpo della gardetta è la sua Ho finito la discussione È stata una grandissima gira Alla prossima Un saluto a tutti i miei fans Ciao La Guilla de Chamberon Un saluto a tutti i miei fans